La caduta del governo Draghi, la fragilità delle alleanze del centro-sinistra in Sicilia. Non convince la scelta del PD di escludere dall'alleanza del centro-sinistra i Cinque Stelle, i quali sono fatti oggetto di un durissimo attacco mediatico e politico, scagliato da più parti in quanto ritenuti responsabili di avere acceso la miccia che ha fatto cadere il governo Draghi. Il caso Sbelli, come è noto, nasce dal loro non voto sul decreto aiuti sul quale il governo aveva messo la fiducia, afferma Salvo Baio, spavente del PD di Siracusano. Questo decreto conteneva punti indigeribili per i Cinque Stelle come il termo valorizzatore di Roma e una modifica alla normativa del reddito di cittadinanza. Per tali motivi, su cui si può essere o meno d'accordo, i pentastellati non avevano votato nel Consiglio dei Ministri. Il provvedimento, pertanto, era logico aspettarsi analogo al comportamento al Senato. La via d'uscita per evitare il patatrac era stata indicata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento di Inca e consisteva nel non porre la questione di fiducia e votare il provvedimento per punti, normalissima tecnica parlamentare che avrebbe disinnescato la miccia. I Cinque Stelle avrebbero votato contro i due o tre punti da loro osteggiati e a favore su tutto il resto, ma Draghi ha rifiutato di accogliere una proposta ragionevole che avrebbe evitato la crisi. C'è poi la questione dei famosi nove punti proposti dal Movimento Cinque Stelle. Alcuni di esse sono assolutamente condivisibili, anzi sono stati considerati di sinistra da esponenti di primo piano del PD come Boccia e Orlando. Si potrà obiettare, e in buona parte è così, che la proposta nasceva da esigenze di visibilità politica e che il Movimento Cinque Stelle era attraversato da inquietudini profonde e sbandamenti politici. Ma come avrebbe reagito qualsiasi altra forza politica che subisce una scessione che le porte via oltre 60 parlamentari? Scessione certamente preparata e accolta benevolmente da ambienti politici, economici e delle informazioni nel suo insieme. Forse Draghi, con un po' di duttilità e di realismo, avrebbe potuto sedare le fibrillazioni dei pentastellati. Detto questo, non si possono negare gli errori da loro commessi che gli hanno fatto perdere il controllo della situazione, esponendoli alle forti critiche che salivano dal Paese. In questo quadro il PD, che è stato un partito che ha sostenuto lealmente e convintamente il governo Draghi, ha deciso di non allearsi con il Movimento Cinque Stelle facendo saltare il campo largo. Ridotto all'osso, Enrico Letta ha fatto il seguente ragionamento. Non posso impostare la campagna elettorale difendendo l'operato di Draghi e facendo della sua agenda una bandiera, avendo come alleato un partito che è corresponsabile della fine anticipata della legislatura. Se da un lato ciò è comprensibile, dall'altro non si può negare che il centro-sinistra rischia di perdere una notevole quantità di voti. I sondaggi danno i 5 stelle al 10%, che secondo l'Istituto Cattaneo incideranno in modo rilevante nei collegi uninominale. Inoltre si rischia di mandare al Paese un messaggio non dico di resa, ma di rassegnazione alla vittoria del centro-destra, conclude Baio. Ci si augura che il quadro delle alleanze nazionali non abbia ricadute sulle regionali e che Caterina Chinnici abbia il sostegno dei 5 stelle siciliani. Infine, sono tanti i grillini siciliani che a causa di una regola, quella del massimo due mandati elettorali, rigida, lasciano il Parlamento nazionale e quello regionale. Non potrà rientrare in Parlamento il nisseno Giancarlo Cancelleri, attuale sottosegretario dei Trasporti. Non torneranno negli scanni parlamentari il deputato mazzarese Alfonso Bonafede, già Ministro della Giustizia. Il senatore parlamentano, anche se trasferito a Brescia, Vito Crimi, ex Vice Ministro dell'Interno ed ex Capo Politico ad Interim del Movimento. La senatrice catanese Nunzia Catalfo, già Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali. La deputata Giulia Grillo, già Ministra della Salute. Il senatore trapanese Vincenzo Sant'Angelo, già sottosegretario della Presidenza. La deputata Nessena Azzurra Cancelleri, sorella del Giancarlo. La deputata di Rosolini in provincia di Siracusa, Maria Marzana. La deputata ragusana, Maria Luce Lorefice. Non torneranno a Lars né in nessun'altra istituzione. Sei deputati sui 15 del gruppo parlamentare dei grillini siciliani. Francesco Cappello di Caltagirone, Giannina Ciancio di Catani, il palermitano Salvo Siracusa, il palermitano Giampiero Trizzino, il siracusano Stefano Zito e la messinese Valentina Zafarana.